Una manovra autonoma per sostenere i medici liberi professionisti, ad annunciarla il presidente dell'Enpam Alberto Olivetti per intervenire in favore degli oltre 200.000 professionisti esclusi dall'ultimo decreto del governo. Medici che, pur non essendo inseriti nelle strutture ospedaliere, sono in prima linea nella lotta al coronavirus. Stiamo definendo la nostra manovra, sottolinea il presidente dell'ente previdenziale, anche in relazione a quanto il governo deciderà per noi. I nostri contatti con il ministro del lavoro Catalf e con il MEF, con i quali dobbiamo condividere il piano d'azione, sono serrati. Nelle casse dell'Enpam, allo stato attuale, vi sarebbero 85 miliardi. Inoltre, i medici o dontoiatri liberi professionisti lamentano, visto il fatturato zero, di dover far fronte a mutui leasing, finanziamenti e canoni di locazione di studi ed ambulatori dove si esercitano le professioni. Il decreto ha contemplato per gli affitti soltanto la categoria catastale C1, alla quale non appartengono gli studi. Gli stessi chiedono inoltre l'azzeramento di carichi in corso con l'Agenzia delle Entrate e l'annullamento dei tributi fiscali e comunali per tutto il 2020.